Un piano strategico per la città dell'Aquila. Continuiamo il nostro percorso di conoscenza, di raccolta di idee, di proposte per dare il futuro alla nostra città. Un incontro con il mondo delle professioni, con il mondo dell'impresa, con il mondo del commercio, ma anche con il mondo della cultura e dell'università. Un incontro che serve a dare un ulteriore contributo a questa idea, a questo progetto che tutti insieme vogliamo mettere assieme per rilanciare una città che pur ferita deve avere, può avere un grande futuro. Grazie per la visione!